Spesso ascoltiamo locuzioni tipo questo film non si potrebbe più fare, oggi questo film non troverebbe nessuno disposto a finanziarlo, oggi questo film non potrebbe essere trasmesso in televisione anche se uscisse nei cinema, ma questo film probabilmente nemmeno uscirebbe nei cinema. Ecco, vorrei dedicare due video della mia rubrica Eresie a due film che corrispondono un pochettino a questo criterio. Il primo è un film italiano del 1974 e si intitola Le farò da padre, diretto da Alberto Lattuada, un film che è uscito un po' dai radar, non mi risulta esista una edizione in dvd, forse esiste una vecchia VHS ma non lo so, non ne sono sicuro. È un film bellissimo a mio avviso e racconta il tentativo di un faccendiere romano di nome Saverio interpretato al solito splendidamente da Gigi Proietti, il tentativo diciamo di speculazione di Lizia nel sud Italia. Per fare questo tenta di sedurre una nobile donna interpretata da Irene Papas con l'aiuto di un personaggio luciferino tartufesco affidato all'interpretazione strepitosa di Mario Scaccia, uno dei grandissimi attori del cinema italiano. In realtà questa nobile donna non è assolutamente una sproveduta e mette parecchi bastoni fra le ruote al personaggio di Proietti e lui cosa fa? Cerca un suo punto debole per colpirla appunto in questo punto debole e lo trova nella figlia, perché questa donna ha una figlia di nome Clutilde, giovanissima, che però ha un fortissimo ritardo mentale, praticamente è una ragazza appena maggiorenne con il cervello di una duenne praticamente. E cinicamente, in modo criminalmente cinico, qual è il piano di Proietti? È quello di rapire la ragazza, fare la cosiddetta fuitina, mettere di fronte al fatto compiuto la madre, sposare la ragazza e quindi godere, diciamo, dei diritti poi in termini economici che avrà da questa situazione per fare, lui vuole aprire un villaggio turistico, insomma un progetto molto complesso e questa è la cosa, se non che il progetto, diciamo, lui riesce a rapirla, ma poi si innamora di lei, si innamora di questa ragazza ritardata mentale che è interpretata dalla bellissima Teresa Savoy che viene lanciata come ed uso di Latuada, quello di lanciare giovani donne. Latuada sappiamo che ha questa nomea di regista delle ninfette che è assolutamente sminuente nei confronti della sua statura di autore, Latuada è un grandissimo cineasta, ma sul tema del lolitismo ha girato film fondamentali come per esempio, vabbè il titolo forse anche più banale, I dolci inganni con una Katniss Pack che all'epoca poi era anche un po' un'attrice, anche un po' prigioniera di questo ruolo, archetipica insomma rispetto al ruolo della lolita. Ma dicevo, Teresa Savoy ha avuto una sua carriera, io me la ricordo, in Sando Canalare Scossa di Sollima, poi ha fatto con Tinto Brass, Salonchitti e Caligola e ha anche frequentato il set di un autore diciamo estremamente rigoroso come Miclo Siancio. Inutile dire che a parte il film di Sollima, poi vabbè non cito tutti gli altri che ha fatto, insomma però sono ruoli in cui la componente dell'eros è molto forte. Allora l'attuata nel raccontare questa ragazza veramente non ha reticenze e non si ferma davanti a nulla, perché ecco probabilmente un cineasta che si trova ad affrontare un soggetto del genere oggi, faccio un po' un processo alle intenzioni, diciamo neanche le intenzioni, ai vaghi così, a vaghe idee proprio. Probabilmente edulcorerebbe moltissimo, invece l'attuata si pone tutta una serie di problemi. Primo fra tutti, che cosa rappresenta l'eros per una ragazza con questo tipo di problemi, una ragazza incapace di intendere di volere? E allora ci sono delle sequenze sconvolgenti per noi spettatori e per il personaggio di proietti in cui vediamo l'anziana balia di questa ragazza, che è una governante che la aiuta, che gli sta dietro, che la masturba. La masturba perché chiaramente la tensione dell'eros che è sentita da questa ragazza, perché ha 18-20 anni, pur non comprendendola perché ha il cervello di una bambina, però comunque è un'energia che deve essere sfogata e quindi con il pragmatismo, diciamo, sembra dirci l'attuata, con il pragmatismo delle classi meno abbienti, ma che allo stesso tempo sono molto a contatto con quello che deve essere fatto, ecco che vediamo questa anziana donna che la masturba. Il personaggio di proietti pone una serie di problemi infiniti per lo spettatore odierno, perché è uno stupratore della peggior fatta. Ora, naturalmente, inizialmente lui non ha nessuna intenzione di abusare di Clotilde, perché è semplicemente un fatto economico. Il punto è che se ne innamora, ma anche qui se ne innamora e quindi la desidera. E allora il desiderio nei confronti di una creatura incapace che corrisponde in termini di volere o che corrisponde soltanto in termini di, diciamo, in termini istintuali. Insomma, non è una cosa da poco. E l'attuata, secondo me, è bravissimo nel raccontare questo. È assolutamente pertinente, senza mai, peraltro, cioè pur nell'evidenza di quello che racconta, e mi riferisco a ciò che dicevo prima, ma allo stesso tempo non è mai gratuito. E uno, diciamo anche delle, se vogliamo, delle carte vincenti, è inevitabilmente la trasformazione del personaggio di proietti, che passa appunto dall'ambizione così proprio meramente da homo economicus, a appunto innamorarsi questa ragazza, ma innamorarsi come? Cioè cambiando profondamente, cioè praticamente regredendo dalla condizione di uomo adulto, quasi alla lallazione. C'è un momento bellissimo, un incontro d'affari dove si mette a parlare come un bambino, no? Masticando le parole. Insomma, è assolutamente, come dire, vedendo un film del genere ci si rende conto di quanto, prima di tutto dell'anticonformismo di Lattuada come cineasta, ma di quanto il cinema italiano negli anni 70, il film, l'ho già detto, non mi ricordo, del 74, quanto sapesse osare in termini, in tutti i termini, insomma, diciamo innalzandosi con, diciamo, il grande cinema d'autore e scendendo fino, se vogliamo, agli abissi di, anche del mostrabile, no? E questa cosa succede, può succedere anche all'interno di una stessa filmografia. Pensiamo a un cineasta come Marco Ferreri che in questi saliscendi è stato maestro, senza alcuna paura, senza alcun bisogno di mai edulcorare, anzi. E quindi la possibilità di affrontare soggetti potenzialmente dinamitardi, controversi come questi. ora, naturalmente, i sogni di gloria di Proiettisi gli si ritorceranno contro, in qualche modo ci sarà una sorta, potremmo definire una sorta di happy ending per questo film, ma il film ha veramente dei momenti immemorabili perché Lattuada non ci risparmia niente, insomma, ci mostra questa ragazza bellissima, Teresa Savoy era una dea, questa ragazza bellissima che si gestisce, cioè si comporta da bambina, insomma, quindi è assolutamente imprevedibile ed è assolutamente imbarazzante, perché quando ricerca il piacere, naturalmente lo fa, e torniamo a tutti quei problemi di ordine morale che dicevamo prima. E addirittura c'è, voglio dire, Lattuada ci racconta anche il privatissimo, cioè le deiezioni, no? Cioè quando questa ragazza va di corpo, la fa esattamente dov'è. Quindi è come il personaggio di Proietti si trova davanti a una sorta di desiderio assoluto, cioè un desiderio totalmente viscerale, impossibile per un uomo minimamente civilizzato, eppure Lattuada mette in scena questa cosa. E una cosa del genere non può non, cioè non può non porre dei problemi, non può non, come dire, non può non non interrogarci profondamente. E tanto più oggi, secondo me, che siamo in un'epoca in cui giustamente si è, come dire, si è messo all'indice un certo tipo di mascolinità, un film come questo, così complesso, così urticante, potrebbe essere veramente prezioso, a mio avviso, per decodificare, proprio per decodificare il linguaggio del desiderio. Allo stesso tempo, il punto è che viviamo in un'epoca così, come dire, così bisognosa di stabilire che cosa è bianco e che cosa è nero, che forse no, sarebbe accettato. Forse un film di questo tipo sarebbe addirittura rifiutato. Non lo so. Però il fatto che anche nella filmografia dello stesso Lattuada sia uno di quei film più difficili da vedere, cioè non più difficili da vedere perché lo guardi da fastidio, anche se è tremendamente disturbante, ma più difficile da vedere proprio perché non lo trovi. Non c'è un DVD, in televisione figurati se passa, eccetera, eccetera. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.